amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di minuti di recupero vai in archivio con la vittoria dell'inter nel posticipo sul genoa al 27esimo turno di serie a e per commentare una giornata scoppiettante e a dir poco abbiamo il piacere di ritrovare insieme a noi la giornalista del sicilia punto it fabiana mascolino ciao fabiana bentornata ciao andrea e grazie per l'invito fabiana io parto proprio dalla capolista ti chiedo come possiamo commentare il sofferto 2 a 1 con cui l'inter piega il maidomo genoa e credo che non c'erano dubbi in merito però forse dopo questa vittoria c'è l'ipoteca definitiva sul tricolore dei neri azzurri sì diciamo che l'ipoteca sul primo posto era già stata messa molto prima lo scontro diretto con la juventus sicuramente era stato quello il colpo di grazia che ha ammazzato il campionato sostanzialmente la notizia di oggi sostanzialmente di questa giornata di campionato è che l'inter non ha segnato quattro gol dopo una serie di turni veramente straripanti ci sono da considerare tanti fattori personalmente credo che vincita tanto il calendario dell'inter perché il prossimo turno di campionato sarà col bologna poi c'è la sfida di champions con l'atletico è un altro scontro molto importante contro il napoli inoltre la squadra di Gilardino ha preparato molto bene la partita Genoa non ha mai mollato sempre molto reattivo soprattutto nel secondo tempo ha attaccato l'inter nel punto debole quei punti che fondamentalmente avevano segnato sempre i neri azzurri quindi hanno dominato sulle seconde palle bloccato le ripartenze dell'inter e quindi limitato ecco i danni l'inter è sicuramente ha sofferto molto questa reattività del Genova del Genoa ma nonostante questo alla fine c'è poco da dire l'inter è una squadra diciamo che c'è molto poco da da dire e anche questa prestazione un po' leggermente opaca sicuramente può essere perdonata stiamo parlando di una squadra che compete soprattutto non solo per il campionato ma anche per arrivare ai vertici della champions in europa ha veramente pochi rivali io ti porto sul sunday night match il napoli piega 2 a 1 la juventus e continua il suo percorso di rilancio partita di cuore partita di grinta anche se tanto c'è ancora da fare gli azzurri possono credere ancora nel quarto posto credo che gli azzurri abbiano difficoltà di arrivare al quarto posto non per per propri eh de meriti eh ma quanto per meriti altruic nel senso davanti si corre veramente tanto credo che bologna e e e roma si daranno filo da torcere per molto perché sono le due squadre che al momento hanno il maggiore entusiasmo il napoli è penalizzato rispetto alle altre due compagini da una da una partenza molto lenta del campionato con qualche punto in più magari avrebbe potuto ambire a a la quarta posizione calzona è riuscito sicuramente a stravolgere l'ambiente napoletano conosce molto bene la città è stato vice di sarri e ha fatto parte dello staff di spalletti e quindi sapeva esattamente quali erano le corde da andare a toccare e c'è da dire che sicuramente calzona è fortunato rispetto a mazzarri che è per buona parte della sua permanenza nel luogo campano ha dovuto fare a meno di due giocatori molto importanti come osimene anch'issà che era sono stati impegnati per tutto gennaio praticamente in in coppa d'africa e calzona ha avuto un esordio abbastanza particolare e luna uno contro il barcellona che adesso rivedrà appunto per il ritorno e adesso bisognerà vedere come affronterà e appunto all'andata adesso bisognerà vedere come affronterà il ritorno se il 6 a 1 stradipante contro il sassuolo aveva insomma riacceso l'animo sicuramente una partita credo sia stata una addirittura delle migliori prestazioni del napoli quest'anno contro la juventus ecco sicuramente influirà molto sull'entusiasmo della della città della squadra e poi insomma sembra che pure svarascheria abbia abbia accolto accolto bene il nuovo tecnico quanto pesa sulla sconfitta dei bianconeri la serata negativa di dusan blauvic molto perché al momento io mi ricordo che tu mi avevi fatto qualche settimana qualche mesetto fa la domanda blauvic si è sbloccato adesso quanto sarà importante per la juventus io ti risposi molto se si riesce a ritrovare blauvic sicuramente ehm riuscirà ad avere quel qualcosa in più che gli manca ed effettivamente se andiamo un po' a rivedere le eh riavvolgiamo il nastro andiamo a rivedere un po' le azioni della juventus le più pericolose nascono appunto da blauvic eh colpo di testa punizione soprattutto il palo quello che è molto sfortuna in realtà non eh demerito di di blauvic ecco eh la juventus credo che al momento dipenda tantissimo eh da da blauvic ehm fatica ad uscire da questo momento un po' eh turbolento molto eh molto opaco eh in sé partite ha raccolto soltanto cinque punti e l'unica vittoria deriva dal dalla tre a due contro il prosinone tra l'altro anche molto sofferto non è stata una partita molto molto semplice e quindi insomma Allegri inizia a vedere le difficoltà di avere un gruppo molto giovane da gestire e sicuramente eh mantenere il secondo posto non sarà facile perché alle spalle appunto c'è chi sta per arrivare il Milan ormai gli sta soltanto un punto e quindi bisognerà difendere con le unghie e con i denti quel secondo posto. Continua a volare invece il Bologna che vince e rimonta Bergamo e consolida la quarta piazza. Quali sono i pilastri su cui Tiago Motta sta costruendo un autentico miracolo? Allora sia il frutto di un lavoro continuo Tiago Motta ha sostanzialmente preso l'eredità del lavoro di di Mia Iovic eh hanno puntato la società ha puntato su ragazzi giovani promettenti eh talenti che erano eh quasi pronti per sbocciare quest'anno hanno veramente trovato il loro eh insomma il loro anno eh Tiago Motta ha puntato molto non solo sul lavoro ma tanto anche sul gruppo sull'armonia e sulla compattezza del gruppo eh questo si rifletta anche sul sul dall'area che ormai è diventato un vero e proprio fortino ehm il Bologna ha perso soltanto una partita che è un po' la beffa no? È stata la prima giornata di campionato contro il Milan per il resto ha una 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 fila un'altra fila di successi veramente eh insomma antenata con qualche pareggio veramente eh veramente impressionante tra l'altro parliamo della terza miglior difesa del campionato un attacco veramente eh veramente molto prolifero eh stiamo eh veramente parlando di una squadra con un entusiasmo alle stelle che sicuramente sta facendo sognare sta facendo sognare una piazza e che credo che difficilmente mollerà tra l'altro un dato molto importante è l'aver vinto praticamente tutti gli scontri diretti nelle ultime giornate quindi stiamo parlando di Atalanta, Lazio e Fiorentina. In un finale controverso il Milan piega la Lazio all'Olimpico e si avvicina al secondo posto la piazza d'onore e la vittoria dell'Europa League possono salvare la panchina di Pioli oppure dando seguito alle esternazioni di Cardinale possiamo prevedere un cam in panchina per il prossimo anno. Ecco il Milan ha veramente avuto dei risultati molto altalenanti eh al momento sta vivendo un'altra parentesi ehm un'altra parentesi poco felice ehm diciamo che è iniziata con la sconfitta col Monza e mh anche la prestazione contro la Lazio non si può definire eh soddisfacente ehm se proprio diciamo devo essere non proprio buona ecco credo che Pioli abbia dato abbastanza a questo Milan e non credo che Pioli possa dare altro e questo secondo me si vede anche nella stagione di Leao. Leao non è più lo stesso della passata stagione non è più ehm non riesce a produrre la stessa quantità di gol o comunque anche la stessa anche a livello di assist sono sicuramente è sicuramente diminuito insomma tutto la sua eh diciamo il suo momento di di prestazioni eccellenti eh basti pensare che comunque si è sbloccato contro l'Atalanta eh in campionato non segnava da da settembre è sicuramente un periodo abbastanza complicato e in Europa League adesso Pioli dovrà vedersela contro la via Praga per cui eh sarà bisogna sono vari step vari test che il Milan dovrà fare ma non credo potrà potrà completare la stagione bene ma non credo che diciamo ci sarà un proseguo. Come possiamo spiegare invece i continui saliscendi nel rendimento della Lazio? Ecco la Lazio parliamo del Milan con le sue parentesi buie eh risultati altalenanti la Lazio è molto simile da questo punto di vista rispetto eh con appunto col Milan molto simile ehm al di là degli errori arbitrali o comunque dubbi arbitrali eh la Lazio ha evidenziato tutto quello che è il periodo di di nervosismo di stress ci sono sicuramente tantissimi fattori Sarri a inizio stagione parlava di una preparazione non fatta benissimo con carichi eccessivi che hanno eh appaticato ehm la squadra eh appesantito le gambe dei giocatori e questo è un elemento altro elemento è che eh la Lazio deve ritrovare il suo punto di riferimento e il suo punto di riferimento il suo bomber che per anni è stato Ciro Immobile Ciro Immobile ehm vuoi per una serie di infortuni comunque stiamo parlando di un giocatore che ormai eh sta andando avanti con l'età ehm quindi eh non 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 ha più ritrovato in immobile quello che sicuramente era un giocatore che garantiva la doppia cifra in gol e quest'anno ancora ferma a sei eh poi ci sono anche tanti altri giocatori che non hanno reso come avrebbero dovuto vedi Felipe Anderson Castellanos la scommessa Isaacsen che tanto aveva ammaliato in nella competizione europea l'anno scorso la Lazio che aveva incontrato d'avversario quest'anno eh non è riuscito ancora a mostrarsi a pieno avrà sicuramente mondo per rifarsi ma eh ancora decisamente deve ancora mostrare il meglio di sé eh abbiamo parlato di note negative ma ci sono anche note positive della Lazio ad esempio la la Champions viene dal dal 1 a 0 contro il Bayern adesso ci sarà il il ritorno eh diciamo tutto molto molto aperto anche perché sappiamo il Bayern in Bundesliga ecco non sta vivendo un periodo molto felice ma credo sia tutto abbastanza abbastanza aperto. La Roma di De Rossi di Laga Monza e si porta al quinto posto quali tasti ha saputo premere il giovane tecnico per riuscire a risollevare la squadra? Credo che eh De Rossi e Calzona siano un po' la faccia della stessa medaglia nel nel senso che ehm come ho detto per Calzona conosce molto bene l'ambiente eh romano quindi sapeva quali erano come ho detto per Calzona le le corde giuste da toccare. In questo caso eh possiamo appunto fare un'analisi un po' più completa di De Rossi. È riuscito a riaccendere eh giocatori che si erano che avevano perso un po' qualche un po' di se stessi per strada. Stiamo parlando di giocatori come Pellegrini eh lo stesso di Bala che comunque aveva trenato la Roma con Murigno adesso sembra molto più forte, rimigorito nonostante qualche piccolo acciacco fisico che comunque continua a a seguirlo. Eh per De Rossi adesso però arriva la fase più difficile nel senso che stiamo parlando di eh sei vittoria da quando è arrivato alla Roma in campionato a parte la sconfitta con l'Inter che credo che non faccia testo ehm stiamo parlando comunque di un'ottima prestazione contro 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 l'Inter nonostante appunto la la sconfitta per 4 a 2 ma adesso arrivano eh diciamo la la parte seria eh soprattutto la prossima giornata di campionato De Rossi avrà davanti la Fiorentina quindi una diretta concorrente per la zona eh Europa eh e poi nelle ultime eh dieci partite eh praticamente la metà sono degli scontri veramente molto difficili anche degli scontri diretti stiamo parlando delle derby contro la Lazio ehm il match contro il Napoli, Bologna, l'Atalanta e la Juventus, quindi sarà un finale di di campionato molto turbolento e vedremo se gli ottimi risultati visti contro insomma le più piccole se così si possono definire verranno confermati anche con con le squadre un po' più di peso. Chiudiamo con un'ultima battuta quanto pesa sulle sorti del Sassuolo e della Nazionale il grave infortunio subito da Domenico Berardi? È un brutto colpo non solo per per il Sassuolo ma anche per la Nazionale ehm partirei un po' dalla Nazionale come perché secondo me l'analisi sul Sassuolo è molto più complicata per quanto riguarda la Nazionale Spalletti ha sicuramente gli uomini contati in avanti eh non c'è un l'attaccante di riferimento che eh che è appunto la punta di diamante di questa Nazionale eh che non è necessariamente un male perché comunque se andiamo a rivedere la storia della Nazionale italiana comunque sono state tante competizioni sia europei che mondiali dove l'Italia partiva da eh da svantaggiata e poi eh comunque per appunto la mancanza di giocatori di spicco e poi è riuscita a trovare rispolverare alcuni eh che poi sono diventati dei simboli dei campioni quindi non è detta ancora l'ultima parola per la Nazionale. Un po' più complicato il discorso come ti dicevo sul Sassuolo perché ehm il Sassuolo eh ormai eh diciamo viaggia nella zona retrocessione si è leggermente sganciato perché comunque eh distante tre punti dalla salvezza ma eh comunque sembra eh essere quella meno eh in condizione rispetto le altre. L'arrivo di Ballardini è stato condizionato dall'infortunio di Berardi e ehm appunto Berardi coincide il periodo di eh di di infortuni e dell'andamento del Sassuolo vanno un po' di pari passo. L'ultimo mese è perché appunto Berardi prima di fermarsi adesso con l'infortunio era stato fermo un mese per infortuni e proprio quello è stato il mese nero del Sassuolo dove eh la trafila di sconfitte l'hanno eh praticamente affondato. Un altro dato che secondo me è molto importante per capire l'importanza che può ricoprire un giocatore come come Berardi no? Eh stiamo parlando di nove golle e quattro assist fatti in campionato che sono il risultato migliore per un italiano nella classifica marcatori. Attualmente adesso è stato raggiunto se non sbaglio solo da Orsolini e da Pinamonti. Ma eh per per lunghe giornate per lunghi turni è stato l'unico solo. Quindi insomma è un giocatore molto di peso eh che sarà molto difficile da sostituire sia per il Sassuolo che per la nazionale. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Fabiana Mascolino per essere intervenuta. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Fabiana, grazie mille. Ciao Andrea, grazie. Grazie.